Finalmente il parco Baden-Powell diventa i garischi a nuova vita ed è stato inaugurato nella sua rinnovata bellezza a servire la zona di Santa Barbara e Pettino e l'immediata periferia dell'Aquila, vicino ad abitazioni e scuole. Un'area riportata alla sua originaria bellezza, con un nuovo prato, qualche gioco per bambini e delle sedute con tanti alberi. A tagliare il nastro diverse scolaresche, assieme alle autorità, il sindaco Pierluigi Biondi, l'assessore all'ambiente Fabrizio Taranta e il vicepresidente dell'Aggiunta regionale Emanuele Imprudente, che da assessore in comune avviò l'iter per il recupero dell'area. Questo era un parco che veniva fruito dai nostri cittadini in maniera costante. Con l'arrivo del terremoto, come è successo in purtroppo molte porzioni del nostro territorio, ha cambiato la sua funzione, sono state costruite delle casette, si sono spostate associazioni, ha avuto una funzione completamente diversa. La riqualificazione e la restituzione di questo parco alla città è anche un po' mettersi alle spalle tutto quello che è successo a 12 anni del terremoto e iniziare una fase nuova. Rientra anche questo nel percorso di riqualificazione di tutti gli spazi verdi della città che stiamo con fatica, direi, ma credo anche con profitto portando avanti in città. Questo è uno dei tanti progetti che abbiamo avviato con l'amministrazione comunale all'epoca che ero assessore che riguardava la valorizzazione e la messa a disposizione della città dei aree e spazi verdi. Si è partiti da un progetto di riqualificazione di messa a disposizione di parchi importanti del centro città come il parco del Castello, l'area della villa e il parco del Sole per poi spingerci sulle periferie e sulle frazioni. Questo rientra in quel grande progetto che abbiamo avviato, che l'assessore Fabrizio Taranta ha portato avanti e che oggi finalmente vede la luce, insomma ridà a questo quartiere un'area che può essere fluibile dai ragazzi, dai bambini, dalle persone anziane, insomma un polmone, un percorso pedonale, aree verdi, giochi, quindi una forma di socialità che è importante. A fianco c'è anche un parco per gli amici a quattro zampe e il comune nel progetto di recupero dei parchi sta cercando di differenziare le aree verdi. I lavori sono costati circa 160.000 euro. Dopo il taglio del nastro e la scoperta di una targa, una gustosa merenda per tutti i bambini.